Ehi la ciurma, io sono Mercedes e benvenuti in questo episodio di Conan Exiles Allora io ho ricevuto questo gioco che è in Early Access, lo trovate su Steam Ha una trentina di euro credo Ho ricevuto questo gioco ma non posso farlo in una recensione Nel senso che mi hanno detto Wey guarda che è in Early Access quindi facci dei video ma non recensirlo Perché ovviamente manca ancora un fracco di roba Ci sono le animazioni super buggate Ci sono un sacco di bug, è lento I server laggano eccetera eccetera Però ci stanno lavorando su, è uscito, è in fase alfa se non sbaglio E... o in beta Comunque è ancora in sviluppo Ho visto che sono stati caricati su Youtube dei video per quanto riguarda La... la parte iniziale Quindi ho detto vabbè non iniziamo una nuova partita Tanto magari l'avete già anche vista Vi faccio vedere che cosa può essere un pochettino Eeeh... Nel suo essere leggermente avviato Allora io ho creato un nuovo personaggio Che è una donna Eeeh... Ho craftato un minimo di cose In pratica si parte da laggiù in fondo In fondo dove potete vedere quelle rovine Se arrivi qui mi sono fatto una piccola struttura Qua craftando un po' di cose Salendo un po' di livello Non sono particolarmente alto di livello Perché sono di... Eeeh... Livello 6 Ho imparato un po' di cose Da craftare Eccetera eccetera E... Bon Quindi posso già raccontarvi un minimo Qual è la mia esperienza per ora su Conan Exiles Appunto un survival Un survival ambientato nel mondo di Conan il Barbaro Che io purtroppo conosco assai poco Eeeh... E' incentrato su... Appunto sulla sopravvivenza in questo mondo Sul cercare di... Rappresentare ecco un po' il mondo di Conan Non so se incontreremo Conan Perché all'inizio ci salva lui Ci sono delle strutture in fondo La mappa è abbastanza giga enormica E' su che noi siamo appena qua nel margine Dove si spawna E' al di fuori della mappa Eeeh... Niente Andrò poi un pochettino più avanti ad esplorare Per ora sono scarso Quindi non sono andato molto oltre questa oasi E ho costruito appunto questo misero edificio Ho costruito questo altare Perché appunto è incentrato anche sulla religione Ci sono per ora quattro divinità Di cui una è praticamente per gli agnostici Nel senso che non chiede che venga adorato e niente Poi ce ne sono altre Una che è tipo violenta per lo schiavismo eccetera eccetera Un'altra che è il dio del veleno dei serpenti Boh La vediamo delle creature offensive Eeeh... L'ultimo Quello che ho scelto io è Mitra Che è il dio della giustizia E ho detto Boh dai scegliamo Mitra E ho costruito anche il suo altare Che è quello che avevo all'inizio Che potevo costruire Ci sono vari craftabili Che si possono sbloccare Imparando delle ricette Salendo di livello Quando saliamo di livello Ci danno dei punti Eeeh... Quei punti possono essere sfruttati Per costruire Per sbloccare delle... Delle nuove cose All'inizio si parte con questi tre Poi ho sbloccato questo Che appunto permette di costruire Il lascia Il sacco a pelo Che permette il salvataggio Uno spawn point E twine Che sono tipo delle corde Una roba del genere Poi stone mason È in pratica quello per costruire Eeeh... E quindi ci sono Tutti gli elementi di costruzione Survivalist Il fuoco da campeggio E la borraccia Super utile Mercenario ci dà invece Un'arma e uno scudo E wooden box Ci dà un... Un... Una... Cassa dove salvare... Dove lasciare la roba Tra l'altro ho tutta della carne Che mi sta andando male Qua nell'inventario nel frattempo Qui invece abbiamo Degli skill point Che possono essere utilizzati Per la forza L'agilità La vitalità La precisione Eeeh... La grandezza Della stamina Cioè quanta stamina abbiamo Quanto peso possiamo portare Il survival Non ho capito bene Dice puoi metabolizzare meglio Il cibo Eeeh... Vi faccio vedere un minimo Di cose che si possono fare In alto vediamo degli indicatori Abbiamo la vita Super mega importante Come al solito Poi la stamina Che oltre per correre Va via anche quando Utilizziamo degli oggetti Come potete vedere Adesso sto utilizzando Della stamina Poi accanto C'è la sete La fame Eeeh... L'esperienza Per il prossimo livello E il quanto Stiamo trasportando Eeeh... Come potete vedere Vi si è rotto il piccone Super comodo Perché per rifarlo Ci tiene salvati In inventario Dei Quick crafting Diciamo Quello la Per ripararlo In pratica Ci ha preso Semplicemente Della pietra Non dobbiamo più Riutilizzare Il Eeeh... Completamente Ci chiede 5 di pietra E 5 rami I rami Li tiene In pratica Ti chiede solo Di prendere Delle pietre Per sistemare Quello che si era rotto Il che lo rende Comunque più efficace Eeeh... Una volta che l'hai costruito Cioè è più complicato Farlo la prima volta Ma poi le altre volte Basta semplicemente Riparare quello che hai già Ovvio Se l'hai perso Devi rifarlo da capo Si sta facendo notte Questo non mi piace Perché di notte Si vede assai poco Potrei craftarmi una torcia Ma le torce Durano assai poco Eeeh... Vorrei farmi più che altro Un giretto qua sotto Massacrare qualcuno Intanto che Eeeh... Si vede ancora qualcosa Tra l'altro Il danno da caduta È praticamente infimo Perché anche buttarsi giù Dalla rupe Direttamente Eeeh... Non succede niente Adesso ci venerà Di brutto ma Oddio lag 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 Ah mi si è rotta La ricraftiamo Al volo Ok Andata Ma... E' questo? L'ho ammazzato io? Boh Ci ha tolto parecchia vita Per il fatto che Non avevamo più Eeeh... La... La spada A un certo punto Ma... Boh Questo è tipo Un glitch Non lo so Vabbè comunque Eeeh... Cosa? Ah no Ho tirato fuori L'altro pugno Per dare i pugni Vabbè ma non è grave Eeeh... Si possono appunto Maciullare I... Le creature Sconfitte Per ottenere delle risorse In particolare carne Che Appunto Andremo un pochettino A consumare Questa carne cotta Per recuperare Un po' di vita Allora Questo qua non è grave Perché potremmo seccarlo Anche senza Che ci faccio danno Invece danno ne ha fatto Ed è anche volato via Brutalmente Come... Ho la borraccia vuota Devo andare a riempire la borraccia Stiamo anche morendo di sete Mi scusi Io passo via veloce Mi lasci in pace Devo andare Solo a prendere un po' d'acqua Mi spiace Mi... Mi scusi Arrivo subito Sono subito da lei Ok Il lag Non l'ho mai provato Effettivamente a registrare Ma talvolta fa di queste Tirate di lag Si vede che è un early access Appunto Allora beviamo E poi riempiamo anche la borraccia Ottimo Ok Adesso siamo abbastanza a posto Si sta facendo notte Conviene Oddio no Qua ci sono i tizi Gli esseri umani Quelli fanno parecchio danno E visto che non ho grande armatura Né grandi armi Preferisco allontanarmi Perché ci sono Dei piccoli accampamenti Qua in giro Ho finito anche la stamina Porca miseria Si sta facendo notte Non voglio morirci qua dentro Usciamo 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 Via 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 Damose 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 E non si vede più Un cullo di niente Vedete Adesso si sta facendo notte Ed è buio Come l'inferno Non so se l'inferno No l'inferno c'è un sacco di fiamme Quindi non dovrebbe essere buio Continuo a sentire il suono Dell'altro che mi insegue Perché gli esseri umani In genere Mi inseguono per un sacco di tempo Un'altra è provata Ad affrontarne una Ma Ci sono morto Di brutto No Questo non era un suono Di un essere umano Ah ma se sono questi imp Stupidi che mi inseguono Non è che è un Grae problema Ok Seccati Boh mi hanno fatto Niente di danno Allora Ok Delle ossa E della car L'altro dove cavolo è volato via Non vedo più niente Ah E qua Ok Fatto direi che possiamo Ah non ho più il follow Perché mi si è distrutto Ce l'ho distrutto per sbaglio In realtà Cosa ho bisogno E 40 branch Non ne ho Non ne ho Non ne ho Però Ho bisogno di farlo in fretta Perché qua Altrimenti sono fregato Tanto è già parecchio Che vedo Che c'è Quelle Fuoco lassù in alto Ma Non Ma 40 branch Ce l'ho anche Che c'è Il falò Ah no 50 Beh ne ho 41 Quindi me ne ho ancora solo 9 Il casino di questi qua È che non li prendi dagli alberi Li prendi solo da per terra Quindi devi andare a cercare in giro Carne per ora ne ho Pelli le mettiamo là Pietra ne ho In sovrabbondanza Poi anche pieno Anche perché Questa roba qua Che erano quelli rotti Che ho craftato Per sbaglio Non si vede niente Quindi credo che Interromperò Qua la registrazione Ci vediamo Quando verrà Di nuovo giorno E per continuare un pochettino Questa nostra avventura Raccoglieremo magari un po' di risorse Faremo qualcosa Sta arrivando l'alba Probabilmente ho craftato la torcia In pratica però Diciamo che Diciamo che Meglio così Meglio così Allora tornerei di sotto A raccogliere un pochettino Di fibre E di rami Per poter prendere Perché sto raccogliendo Delle pietra Che ne ho In sovrabbondanza No Ne ho dietro Sì Ne ho lasciate 200 unità Là dentro Nell'inventario Allora Forse qua Non ci sono tantissimi Rami però Chi mi attacca È uno stupido Imp Mi si è rotta No Ehi Ok Allora Prendere un pochettino Di fibre Qua rami Forse non se ne trovano Se non ricordo male Sono Più che altro Al di fuori Dello oasi Rami Stiamo Prendendo anche Degli insetti Nel frattempo Che Si possono mangiare Da quel che ho visto Ma non danno Praticamente niente Di fame Forse è proprio Tipo l'ultima speranza Se per caso Non hai altro Da fare Forse su questo spiezzo Qua dove c'è Questa antilo Capra O col che Possiamo trovare Dei rametti Così facciamo anche Un po' di crafting Selvaggio Poi questo sarà Un episodio Un po' pilota Cioè se per caso Vi piacesse Tanto Il genere Se per caso Foste Dell'idea Di farne una serie Possiamo anche creare Un personaggio Proprio così Dove è andato Il coniglio volante Dove è andato No sul serio Ho ammazzato un coniglio Mi serviva per mangiare Vabbè A parte che A parte che non posso Quoquerlo Però Non posso Quoquere Niente Le altre fibre Dove è andato No sul serio Dove è andato Il coniglio Oddio Che spavento Se ne vada Mannaggia La miseria Mi hai fatto Prendere uno spavento Sta capra Allora Qua niente Là c'è un tizio Voglio vedere Se trovo dei rami Ok Qua ci sono dei rami Ottimo Devo ricordarmi Di non correre Troppo Perché Anche appunto Il utilizzare Gli oggetti Consuma la stamina Quindi Non vorrei Poi finirmi Finire a dover Scappare Senza stamina Quanti rami ho 57 Me ne farei un altro po' Giusto Per Precauzione Ciao Bello Agguato Ottimo Non ho potuto dire Neanche bene Questo però Forse Troveremo Degli altri rami No Mi sa Quelli ho raccolti Tutti Lo scorso Giro Gli oggetti Respawnano In genere Forse I rami No Forse I rami No Perché Quelli Finora Non li ho visti Respawnare Tipo Nella mia zona Là Sono passati Vari giorni Ma Non ho più visto Nessun ramo E Però Per esempio Le rocce Sì Ne sono sicuro Tipo Queste rocce Qua vicino Respawnano Sempre Ogni 3x2 Me le ritrovo Le distruggo Poi le ritrovo Anche quelle che abbiamo distrutto all'inizio video E lo stesso vale per i cespugli I cespugli Vengono arvestati E poi dopo un totto ricrescono Quindi GG Super Comodo Il fuockelello Lo metterei però fuori Da questa struttura Anche perché Ho poco spazio dentro L'ho fatta piccola Più che altro Per mostrare un po' E per vedere un po' Che cosa Sì Ho lasciato tutta la pietra qua E per vedere un po' Come sono le strutture di base Poi si possono potenziare Possono essere fatte Di altro Rispetto alla sandstone Questo è sandstone Diciamo Pietra del deserto E Nulla Il crafting appunto Come potete vedere Richiede un totto di tempo Mettete a craftare un oggetto Dopo totto secondi Ve lo ritrovate Mangiamo una cosa Prima che vada male Il fuockelello Lo mettiamo Dove è andato? Sta andando male Tutta la carne Nel frattempo Allora Fuockelello 7 Lo piezzerei Qua Ecco Davanti Fuockelello funziona C'è anche la descrizione Devi mettere del legno Dentro Poi Devi mettere il cibo Allora Noi mettiamo il cibo Questo è da cuocere Questo è da cuocere Questo è da cuocere Ok Qui ci manca il legno Con l'altro spazio Metti on E quando è on Inizia a bruciare Legna Ecco Qua un altro Soccopelo Che è quello di riserva Perché se per caso Dovessi morire Due volte Almeno Dove respawnare Lasciamo qua I semi E gli insetti E le ossa E le pelli Ottimo E facciamo che Mettere legna E accendere il fuoco Qua sotto Dà la crafting Della Cure Del 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 fucherello E Prendiamo un pochettino Di carne Ma guarda che carne Ne abbiamo anche Ah questa La unirei con questa Nell'inventario Un po' ne abbiamo Sì Non è un problema Ancora di livello Non siamo saliti Sarebbe stato carino Farvi vedere Un salita di livello Per investire un po' Nelle varie ricette Ma Mi sa che Per questo episodio Sia abbastanza così Io vi ho fatto vedere Molto brevemente Com'è con An exiles E se per caso Vi interessasse il gioco L'ho trovato su steam Io Ve lo dico L'ho ricevuto gratuitamente Quindi Mi piace giocarci Però Fosse stato Da comprare Non avrei investito Quella cifra Per comprare Un early access Perché Come dico sempre Sugli early access Ci si può fidare Ma fino a un certo punto Nel senso che Possono benissimo Dire Boh mi sono stufato Ciao a tutti È stato bello E tu hai pagato 30 euro Non per un gioco completo Ma per questa cosa qua Che ancora non è totalmente completa È bugata Eccetera eccetera Quindi ragazzi Io ve lo dico sempre Andateci Andateci Sempre Molto con i piedi di piombo Detto questo Io vi inviterò A lasciare un mi piace Iscrivetevi Se per caso non l'este ancora fatto Ci vediamo nel prossimo episodio Di uno dei qualsiasi video Che vorrete vedere Metterò in alto destra Probabilmente Un sondaggio Per vedere Se per caso Voleste continuare La serie di Conan Exiles Iniziando con un personaggio Nuovo Eccetera eccetera Eeeh Ciao E alla prossima Ciao